Nel video di ieri ho detto, vabbè chissà se è impossibile arrivare a 5.000 like nello stesso giorno per Turmoil E invece 5.200 like, oh ma lo fate apposta eh, mo sono costretto a registrare Turmoil anche oggi Cioè ma ci stiamo rendiamo conto, il video non ha fatto neanche 20.000 visualizzazioni Che per lo standard del mio canale è molto basso, ma avete messo 5.200 like Cioè proprio a pennello eh, vabbè grazie e mi tocca fare un altro video Cioè io per l'amor di Dio mi diverto a farlo, però sarà il quarto video anche di oggi E anche oggi quattro video, oh fa caldo, siamo in estate, datevi, ecco capito, un tregua Bene ragazzi, siamo in un nuovo episodio Turmoil e stiamo diventando sempre più ricchi Faccio questo gesto perché non è vero, siamo in rossi in banca Ragazzi, altri 5.000 like prima del prossimo video Tanto oggi non ci arriveremo, e lo dico io E quando raggiungeremo 5.000 like farò un altro video di Turmoil Per cui oggi no, domani, dopo domani uscirà un nuovo video, sicuramente Vi ricordo in descrizione le mie magliette con Staitacce e tanti altri tipi di magliette E mandatemi una foto su Instagram come tanti altri me ne stanno mandando Quando indossate, se comprate la mia maglietta La cosa bella ragazzi è che se io richiedo 12.500 dollari per andare in positivo Mi prende il 45% di tasse, capo da cavole Cioè, ne prendo 12.500 e devo ridargliene 20... Ecco, io direi subito ragazzi di fare l'asta Comprare il nuovo territorio e cercare di portarci avanti con il gioco Dobbiamo tornare più o meno in positivo, ecco D'ora in avanti i livelli andranno dal 1 gennaio Gennaio al 31 dicembre Ragazzi, finalmente completiamo l'anno intero Dal 1 gennaio al 31 dicembre Per cui direttamente, totalmente un anno Forza! Come sempre mettiamo i 3 rabdomanti Mettiamo il cavallo, aspettiamo che il rabdomante cerchi e trovi il petrolio Prima di metterlo a trivella Ormai il gioco ragazzi diventerà sempre più, tra virgolette, monotono Ma è figo perché poi insieme a sclerare Dobbiamo fare più soldi possibili In questo momento il nostro obiettivo è Ok che il gioco è ripetitivo Però il nostro obiettivo è fare più soldi possibili Per coprire il debito in banca E per fare tanti soldi per comprare i nuovi potenziamenti Capite? Per cui, subito il petrolio trovato Attenzione, compriamo i cavalli E li facciamo andare a vendere da nessuna parte Vabbè per il momento qua Perché se no ho trovato il petrolio anche di là E porca vacca Ora l'obiettivo è arrivare a 7,50 Perché in alto a destra abbiamo Il potenziamento dei cavalli Non so dove mettere la web raga La web mi sa che la metterò in basso a sinistra questa volta Vediamo un po' Se va meglio Ok? Fatemi sapere se in basso a sinistra Per voi la web La web La web Va bene Vorresti che le cose fossero un po' più rapide? Tieni premuto il pulsante avanti rapido Ok? Abbiamo sbloccato Finalmente Il pulsante avanti rapido Ha gratis ragazzi È un pulsante gratuito In tutte le partite In poche parole che fa questo tasto? Vedete? Se io lo tengo cliccato Bam Tutto velocemente Però passano anche i giorni velocemente Eh? Si riempiono le cose velocemente Ed è una cosa che a noi serve molto Grazie a questo tasto Velocizzeremo un sacco di cose ragazzi E guadagneremo molto 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 più tempo Allora Abbiamo mille Bam Potenziamo i cavalli E siamo a cavallo con le marmotte Abbiamo il petrolio a un dollore e ventiquattro Questa è una cosa GG for you baby Potenziamo i tubi Innalzi tutto Innalzi tutto Ragazzi Ho comprato un terreno di merda Perché I rabitomanti Non trovano petrolio Questa è una cosa impossibile Ma Ma io non ho sbloccato Il potenziamento Quello che va sotto La profondità dei rabitomanti Forse non l'ho sbloccata Potrei fare la cosa Nel video scorso Metto una Una trivella a caso E faccio le tubature Zig e zag Per riuscire di trovare Qualche macchia di petrolio Non posso Abbiamo visto nel video scorso Ragazzi Che ci costa Troppi troppi soldi Siamo andati sotto Di 9000 dollari Nel video scorso Porca ciabatta Niente Sapete che faccio Non consumo più soldi Attendo di vendere Tutto il petrolio E vi faccio vedere Una cosetta Vi ricordate Nei primi episodi Che vi parlavo Dei bonus Se completiamo Prima del previsto Eccetera eccetera Forse forse Lo abbiamo sbloccato Eccolo qua Annula locazione Terreni Valore rimanente Locazione terreni Ok Dovremmo guadagnare Un bonus Se la consegniamo Il lavoro Prima del 31 dicembre La cosa figa Che posso velocizzare Il tempo adesso Vedete che figata Ok Diamo una mano Anche con l'altra trivella Dovremmo aver finito A breve breve Guardate velocizzando il tempo Bababam 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 Ho fatto un danno Ho fatto un danno Compriamo un altro Ah no Ok sta risalendo Perché Era abbastanza basso Il prezzo Allora ho detto Ok È risalito Fantastico Andiamo a vendere tutto Allora Vai Guardate Velocizzando il tempo Che figata ragazzi Spettiamo Di finire Di completare Tutta la macchia di petrolio Panapam Panapam Guardate quanti soldi 11.000 dollari Dovrebbe essere andata bene Questa qua ragazzi Ora 13.000 dollari Non è il tutto il guadagno Siamo a giugno Abbiamo quasi finito la macchia Vorrei mettere un'altra trivella Forse Forse è il caso Di mettere un'altra trivella Dai Senza perdere tempo Pensi che non ci sia più petrolio Sotto terra Clicca sull'icona dei soldi E termina il tuo contratto Di locazione Se termini il livello Prima del 31 dicembre Otterrai un bonus Vabbè Questo qua ragazzi È quello che vi ho detto io prima Ecco No ho fatto una cagata Ho comprato la trivella E ho finito il petrolio Guardate Ora vendiamo tutto il petrolio Quando i cavalli si fermano Abbiamo terminato Fantastico 15 luglio Stoppiamo tutto Annulla Interrompi C'erano altre due macchie Porco porco Non ci ha dato il bonus Di aver completato tutto il petrolio Ma ci ha dato il bonus Per il ritiro anticipato Ragazzi Siamo sotto Di 319 dollari Voi direte Luke perché è in perdita Se il livello è andato abbastanza bene Perché ci ha tolto automaticamente I debiti della banca Eccolo qua Debiti con le banche 18.000 Abbiamo fatto ragazzi 22.000 dollari In questa partita Abbiamo tolto Tutto il debito in banca Vai E il signor qua Il signor Joshua È quello che ha guadagnato Di più di tutti Ragazzi È uscita una cosa nuova Suggerimenti del sindaco Andiamo a vedere Di cosa si tratta In poche parole Ora noi siamo in questo bioma Il sindaco ci dà Delle idee Ok In cambio di soldi Logicamente Costa 25 Bucaros Bucaros Vabbè Quelle cose lì Lo compriamo E ci dà il primo indizio Oh Guarda qua ragazzi Allora I tubi Non devono raggiungere Il fondo del pozzo petrolifero Una volta collegato Il pozzo Verrà completamente svuotato C'è in poche parole Che E' presente la macchia di petrolio Il tubo Non dobbiamo per forza Portarlo alla fine Della macchia Vedete la prima immagine Nonostante il tubo Non arrivi A prendere il petrolio Lo risucchia comunque Per cui è un indizio Nel senso Non consumate soldi Facendo il tubo più lungo Il tubo basta che Entra nella macchia Poi lo risucchia comunque Questo è un ottimo indizio Ragazzi C'è un ottimo aiuto Diciamo Compriamo un altro E ci dice che Assicurati di visitare Il saloon Di Dapno Le offerte Li cambiano Di anno in anno Le offerte Abbiamo visto Nel periodo scorso Ragazzi Certo Sono consigli Un po' Alla cipicchia Vediamo un po' La velocità La velocità con cui Viene salto il petrolio Dipende Dalla velocità Sostenibile Dal tubo più stretto Dell'oleodotto Per garantire Un flusso ottimale E assicurati che tutti i tubi Siano stati potenziati A sufficienza Interruzioni nel flusso Ok Questo ragazzi L'abbiamo già visto Nel video scorso È buono potenziare Tutti i tubi Perché se noi Vedete qua nel disegno Ragazzi Ci sono tre tipi Di tubature Cioè ci sono tre ganci Tre giunte Il primo è potenziato L'ultimo è potenziato Quello in mezzo Se notate no Vuol dire ragazzi Che i due potenziati Sono inutili Si riempiono i petrolio Ma poi il passaggio In quello in mezzo È stretto Passa comunque Sempre lo stesso petrolio Bisogna potenziare Anche quello al centro Questo ragazzi È importante Se non vedi Il petrolio In un'area Non scoperta Sotto a un rapdomante Che fa cenno Che dice Ehi qua ho trovato il petrolio Aspetta finché Il livello della superficie Sale ancora Quello che dicevo ragazzi Nel video scorso Ultimo Oh Guadagna un bonus Di 1000 dollari Per aver estratto E venduto tutto il petrolio E per aver terminato La locazione Prima della scadenza Vedete che sono 3000 Di bonus C'è il bonus For all All Il bonus Ok C'è il bonus Della scadenza Il bonus per aver trovato Tutto il macchie d'olio E il bonus Per aver venduto Tutto l'olio Prima della scadenza Ragazzi Grazie dell'aiuto Possiamo andare avanti Andiamo in banca Siamo sopra di 20 dollari Ma non possiamo Né comprare il terreno Né comprare Il lavoro Per cui 4000 dollari Dovrebbero bastare Mi ricordate che prima Abbiamo chiesto i 12000 Già adesso 4000 Nel prossimo lavoro Speriamo bene Forse riusciamo ad andare in positivo Compriamo il terreno E compriamo il terreno E comprerei questo qua 2000 dollari Prezzo di partenza Speriamo non mi rinviano Fantastico E altri 2000 Per il lavoro Torniamo a 20 dollari Di positivo Ma questa volta Me lo sento E quella buona Molte volte Trovare il petrolio Il primo colpo Ragazzi È un colpo di fornello Di proprio di fornello Allora Quella a destra in salita Andiamo a vendere di là Ah no Vabbè l'ho beccata Il primo colpo anche di là Ma dai Ma gg per me Gg per me Gg for me Babies Anglosassone Logicamente Dai che devo comprare i cavalli Forza Forza Addirittura Mi ho trovato il petrolio Di fianco ad altra macchia Ora bisogna fare un bel po' di soldi Forza Trovata la macchia di sinistra Ragazzi stiamo andando benissimo Già tre macchie trovate Buono 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 Devo comprare un'altra trivella Anzi no Vabbè Potenzo questa Attendo che finisca Poi la faccio andare di lato Tanto abbiamo un anno di tempo Siamo ancora a febbraio Orca Orca Che poi se non erro Dalle giunte si può raccogliere comunque Per cui io potrei trovare l'altro Ecco l'ho trovato No Fantastico ragazzi Con una trivella sto prendendo due macchie Vedete Bellissima sta cosa Vediamo un po' Vedete che il tubo succhia da entrambe Però forse il risucchio è molto minore Dovrei mettere un'altra trivella Che dia una mano Velocezziamo un po' il tempo La trivella di sinistra ha finito Per cui facciamo dare una mano Diamo una mano all'altra Ha finito anche quella Ho messo ancora un paio di rabdomanti Ma non trovano nulla Non mi ricordo se l'ho sbloccato La profondità ragazzi Non me lo ricordo E ogni volta che faccio il tubo prolungato Finisco il petrolio Allora Sicuramente c'è qualche altra macchia Qua nel sottosuolo Guardate Guardate che culo ragazzi Cos'ho sbloccato qui Perché il rabdomante non me l'ho trovato Perché non me l'ho trovato Dai però Niente è quasi obbligatorio ragazzi Potenziare i rabdomanti Per forza Mi sembra proprio d'obbligo questa cosa Dunque Finiamo qui Abbiamo quasi finito Finiamo questa macchia di petrolio Fantastico Vendiamo tutto E almeno ci becchiamo il bonus Della pronta consegna In anticipo Andiamo un po' Andiamo un po' Fantastico Stoppiamo tutto Alto i lavori Bambete Guarda C'erano delle macchie sotto Però ci becchiamo il bonus Profitto 9000 dollari Sono Un petrolifero Sono ricco Siamo sopra Di 9000 Siamo quelli Che abbiamo guadagnato di più Mamma mia Eccolo qua Profondità 7500 Io lo compro Lo compro Chiediamo Un ennesimo prestito di banca Ma questa volta I rabdomanti ci troveranno Molto più petrolio Allora abbiamo il report Guardate Il nostro sindaco Ci fa il report Del Non so di che cosa Forse dell'ultimo Non credo Perché 14000 Non è l'ultimo Va bene Va bene Va bene Andiamo in banca Nuovo prestito Andiamo sopra Di 4000 Per cui un 2500 Di prestito Andiamo al municipio Facciamo l'asta Per il terreno Abbiamo quasi Ultime due partite ragazzi Ultime due partite Di questo bioma Voglio farvele in questo video Per cui tanti like Ora i rabdomanti Saranno in grado Di trovare Pozzi petroliferi Più in profondità Ed è quello Che serviva a noi Grazie Amico Oscar Tutte e tre Tutte e tre vicini Hanno trovato il petrolio Ottima questa cosa Ottima Allora Invece di comprare Un altro cavallo Sicuramente Guardate qua Per un pelo Ci arriva col primo colpo Ok Trovato Primo petrolio Che andiamo a vendere A sinistra Porca porca Un dollare 26 Andiamo in qua Se voliamo a scendere Ho finito i soldi Per i tubi Aspettiamo che venda Velocizziamo un po' Si può velocizzare Finalmente Questa è una cosa figa Quello di velocizzare È una cosa figa Abbiamo un bel po' di soldi Andiamo giù Ecco qua Già questo petrolio Prima non l'avrebbe mai trovato Questa profondità Non ci sarebbe mai arrivato Il rabdomante Sono un po' nella cacca Ho potenziato tutti i tubi Quasi tutti Ok Ma ho pochissimi cavalli Porca bacca E poi mi sta costando Anche poco il petrolio No Che danno Che danno Che danno Che danno Svuota Svuota No raga ho fatto un danno No raga Dove arrivare a 750.000 Guardate qua Guardate qua che danno Guardate che danno Guardate che danno No raga mi viene da piangere Mi viene da piangere Mi viene da piangere Mi viene realmente da piangere ragazzi Mi viene No guarda qua che casino Potenziamo lì Potenziamo Ragazzi quante multe Quante multe La cosa bella Che non ho visto nemmeno le offerte Se c'erano percentuali in meno Porca bacca Una volta eravamo sopra Guarda quante multe Adesso abbiamo preso il ritmo Adesso Speriamo di trovare Di tornare in tempo Ok Trovato petrolio a sinistra Speriamo in bene Sicuramente sarà molto in profondità Allora Vedete che intanto Il sonar Dello scandaglio Lì Dello scandaglio Arriva molto più giù Ok ha trovato petrolio anche lui Attenzione Anche lui ha trovato petrolio Eh lo dicevo che era molto in basso Porca bacca Porca bacca E' finito il petrolio anche lì E' finito il petrolio anche lì Ok qua l'ho trovato Fantastico Ok Magari gli diamo una mano Perché no Di qua bisogna scendere Velocizziamo il tempo Trovato Trovato Potenziamo Sicuramente ragazzi Saremo molto sotto Per colpa Per via di quelle fughe Di quelle fuoriuscite Porca bacca Non ci voleva Oh tutto a vendere a destra Uh Vendiamo a destra Forza Forza Compiamo altri cavalli Finito Vendiamo tutto E andiamo a vedere il verdetto ragazzi Mamma mia Per tutto Tutto Ho trovato tutto il petrolio Yes Ragazzi Bonus per aver estratto tutto il petrolio Bonus Per aver venduto tutto il petrolio Bonus Per il tiro anticipato Abbiamo avuto 3000 dollari Di multa di fuoriuscite Ma 19000 Di profitto Raga Siamo Veramente Fottutamente Ricchi Porca ciabatta Porca ciabatta 19000 euro da spendere Io comprerò la talpa Compriamo la talpa 10.000 Fai 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 Comprato la talpa La talpa La talpa Non farei più nulla Andrei direttamente all'asta per i terreni Perché è l'ultimo che ci rimane ragazzi Voglio lui Me lo lasceranno questo terreno Me lo lasceranno Yes Yes Ultimo terreno Prova la nuova talpa Clicca sull'icona della talpa In poche parole ragazzi Prendiamo la talpa E la posizioniamo Ora mi dice qua il tutorial Ma dove vogliamo La talpa fa fino A 6 ricerche Ora vi faccio vedere Vedete questi triangolini Ogni talpa 6 Li sblocca Adesso vi faccio vedere più avanti Intanto metto i raptomanti Che ci servono Ok La talpa Vedete Ci ha sbloccato un triangolino Noi vediamo oltre quel triangolino Lì non c'è nulla Il secondo triangolino Non c'è nulla Può capitare molte volte Che a culo ci becca le macchie di petrolio Perfetto petrolio Forza forza Che non si scherza È l'ultimo terreno ragazzi Dobbiamo sfondare in questa partita Guardate la talpa ragazzi Qua nel triangolino Mi ha trovato il petrolio Però vabbè la stessa macchia Di qua Ah no forse è un'altra macchia Però Già l'abdomante Anche l'aveva trovato 1 2 3 4 5 6 Se notate questo è un triangolo grande Sono due triangoli Fino a 6 Ma le talpe si possono potenziare Qua per esempio Io continuo a girare con un pirline Ma non mi becca il petrolio È una macchia talmente piccola quella lì Oh Finalmente ce l'ha fatta Vediamo Se va via L'omino qua della Michelin Vuol dire che È tutto giusto Vediamo un po' Ah qua abbiamo potenziare Sta scomparendo Fantastico Erano due macchie diverse Ma le talpe ragazzi Vi consiglio di non usarle adesso Di usarle più avanti Perché serviranno Per cose ancora migliori Ragazzi guardate Il ho messo un'altra talpa Mi ha trovato il petrolio Qua in basso in basso in basso Guardate Guardate che culetto Perché il raputumante Mi ha trovato il petrolio Ma non riuscivo a trovarlo Me l'ha trovato la talpa Vediamo se è lui Yes Sparisce il raputumante Yes Sparisce Sparisce Inserano altri cavalli Perché ragazzi Ho trovato un botto di petrolio qua Ma tanto Ma tante macchie Ma davvero tanto Questo ha terminato Ok Sicuramente ho tralasciato qualcosa di petrolio Dove un po' Una macchia là sotto Era l'unica macchia ragazzi Per cui bonus per il tiro anticipato Quello Ma sopra di 11.000 dollari Che vanno a sommarsi In quelli di prima E siamo sopra Di 16.000 dollari ragazzi 16.000 dollari La nostra sede di petrolio Ci spinge fino al deserto Quindi potrai imbatterti In rocce e diamanti In superficie Iniziamo l'asta Ragazzi Parabam Nuovo bioma E non c'è solamente il petrolio Ma anche i diamanti Cosa saranno i diamanti Lo scopriremo Nel prossimo episodio Un bacione Un abbraccio 5.000 like Per il prossimo episodio Da Luke Il petrolifero questa volta È vero È tutto Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti